saldi invernali da domani via le promozioni latitanti per spaccio di droga 6 arresti nelle festività strade pericolose arrivano nuovi dissuasori di velocità gattile e canile accordo con aspes per la gestione stagione concertistica si riparte dal violino di carmignola una buona serata a tutti voi pubblico di rossi di tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale del canale 80 con tutte le principali notizie della regione marche in particolare della provincia di pesaro e urbino notiziario di mercoledì 4 gennaio una data che anticipa la partenza dei saldi invernali che nelle marche scattano proprio da domani 5 gennaio andiamo ad ascoltare come confcommercio marche nord valuta questo momento particolare per le attività promozionali della provincia da domani 5 di gennaio fino al primo marzo cominciano i saldi invernali per quello che riguarda la regione marche un momento sempre molto particolare per gli operatori commerciali chiediamo ad agnese trofelli vice direttrice di confcommercio marche nord che cosa si aspettano proprio gli operatori da questa importante comunque finestra di vendite sì allora per quanto riguarda inizio dei saldi per ora adottiamo una un prudenziale entusiasmo nel senso che sono anni oramai che i saldi non hanno quella spinta emotiva di qualche anno fa ci aspettiamo sicuramente che le persone possano riuscire a tornare nei borghi nelle città ad acquistare sempre nei negozi sotto casa il capo d'abbigliamento l'accessorio piuttosto che il gioiello o anche il device elettronico che hanno visto che costava qualcosina in più con i saldi magari più appetibile si riesce a fare quell'acquisto visto che c'eravamo negati per via delle finanze familiari sicuramente non è un periodo facile né per gli operatori né per le famiglie quindi si tende ad un risparmio maggiore nonostante in futuro ci si aspetta che ci sia una diciamo una diminuzione dei costi per le imprese e per le famiglie legate a bollette rincaro gas energia elettrica eccetera per quanto riguarda i dati che sono sempre molto molto oggettivi quindi danno una panoramica più o meno reale di quello che ci aspetterà da domani fino al primo di marzo noi abbiamo sei marchigiani su dieci che acquisteranno un capo di abbigliamento o un accessorio in vista dei saldi la spesa per ogni singola persona si aggira sui 130 euro euro più euro meno e quindi a famiglia si parla di circa 300 euro che è sicuramente una boccata d'ossigeno per le imprese in termini di liquidità non in termini di guadagno ma che permette di andare a sopperire a tutte quelle mancanze avvenute nei mesi precedenti quindi diciamo così una ritrovata liquidità almeno fino al primo di di marzo che dà quella sensazione di continuare di poter far bene per la propria imprese città questo deve essere lo spirito che deve seguire da domani saldi fino al primo di marzo avete invece già una percezione di come è andato lo shopping natalizio rispetto alle annate precedenti allora shopping natalizio fino alla settimana un poco prima della di natale non era partito proprio in pompa magna nel senso che c'erano del movimento ma ha piovuto praticamente fino al 15 di dicembre quindi in realtà le persone si muovevano anche meno o poco da casa dopodiché c'è stata la fuga alla corsa ai regali di natale quindi fino al 24 circa avevamo centri storici borghi molto animati e acquisti anche abbastanza importanti non legati ad importo ma magari a quantità nei comporti più piccoli ma quantità magari anche maggiori per poi invece andare scemando nel post natale quando ormai diciamo tutto era fatto speriamo appunto che ora si possa riprendere da domani fino al primo di marzo con nuovi acquisti e quindi nuova liquidità in un settore il commercio che è sicuramente diciamo così vessato da diverse situazioni tra cui anche non so il commercio online che non è che non ci debba essere ma sicuramente ha preso più parte rispetto a quello del dello shopping sotto casa cioè dell'uscire e acquistare dei negozi e che ha perso un po di appeal non tanto il commercio quanto il saldo in sé per sé per via delle promozioni continue che ci sono durante l'anno se si pensi non so al cyber monday piuttosto che a black friday ci sono continuamente opportunità di acquistare capi di abbigliamento dei vesti elettronici a prezzi scontati che diciamo così che la rincorsa al saldo viene poi magari meno da fano a marotta da coglie al metauro fino a fossombrone sono state festività particolarmente intense per l'attività dei carabinieri che hanno portato a compimento mezza dozzina di arresti di pregiudicati legati allo spaccio di droga che in molti casi violavano regolarmente gli arresti domiciliari rendendosi irreperibili mezza dozzina di latitanti o pregiudicati che hanno violato gli arresti domiciliari sono stati catturati e tradotti in carcere durante questi giorni di festività operazioni che sono state il risultato di una intensificazione di controlli straordinari sul territorio da parte dei carabinieri in particolare di quelli di fano che hanno fermato un 36enne foggiano che aveva più volte violato gli arresti domiciliari dopo che nel 2018 fu sorpreso in possesso di due chili di marijuana revocati i domiciliari si sono aperte le porte del carcere di villa fastigi idem per un pesaresi di 25 anni che deve scontare un anno e sei mesi per i reati di resistenza pubblico ufficiale danneggiamento commessi nel 2017 due analoghi arresti anche da parte dei carabinieri di fossombrone dove a finire in manette sono stati due marocchini uno di 36 anni che dovrà scontare tre anni e due mesi dopo essere stato sorpreso nel centro forse empronese con 65 grammi di cocaina due anni di reclusione per spaccio anche al connazionale di 31 anni importante operazione anche da parte dei carabinieri di coglie al metauro che hanno arrestato un macedone di 28 anni destinatario di un ordine di carcerazione ma che si era reso irreperibile da tempo il pregiudicato è stato rintracciato e incarcerato a pesero e all'atto del fermo aveva esibito documenti con generalità diverse ma i carabinieri attraverso l'analisi delle impronte digitali hanno appurato che si trattava della persona ricercata così come si è appreso che l'uomo aveva effettivamente richiesto al proprio consolato il cambio delle generalità dovrà scontare la pena di tre anni e sette mesi di reclusione e la multa di 14.200 euro essendo stato coinvolto in un'importante indagine portata a termine dai militari fanesi nel 2017 che permise di sradicare una fiorente attività di spaccio di cocaina marijuana e hashish posta in essere dal macedone insieme ad altre quattro persone frafano e coglie al metauro infine i carabinieri di marotta hanno incarcerato un 26 nel posto per aver più volte violato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale al quale era stato sottoposto dopo l'arresto operato nei suoi confronti nel gennaio 2021 quando fu sorpreso a cedere cocaina nell'abitato di marotta si chiamava luca durante il 32enne originario di sant'angelo invado morto ieri in un incidente stradale del quale vi abbiamo dato notizia come ultima ora nell'edizione appunto di ieri del nostro telegiornale durante ha perso il controllo della sua nissan giuca all'interno della galleria nella strada provinciale 16 che da lunano collega il comune di sant'angelo invado schiantandosi fatalmente contro un pilone in cemento durante era papà di due bambini ed è una tragedia che ha lasciato sgomenta la comunità vadese quella di lunano dove luca lavorava come operaio e quella di pian di meleto dove risiedeva e giocava calcio nella locale squadra di terza categoria e purtroppo nel 2022 appena trascorso gli incidenti stradali anche mortali non sono stati infrequenti neppure nelle comune di pesaro soprattutto in alcune aree periferiche sulle quali proprio il comune in questo 2023 è pronto ad intervenire con dissuasori di velocità come strettoie e nuove rotatore come ci spiega l'assessore all'operatività enzo belloni abbiamo rafforzato la sicurezza in alcune strade su sollecitazione ovviamente della comunità una fra tutti quella di santa maria dell'arzilla dove sono previste tre strettoie una lato pesaro una lato fano e una a scendere da monte baroccio e quella lato peso e la lato fano saranno implementate oltre che dalla strettoia anche da una illuminazione dedicata per segnalare appunto il rallentamento causato dalla strettoia e abbiamo per quello avuto già le autorizzazioni della provincia abbiamo affidato i lavori e contiamo da qui a qualche giorno insomma già di iniziarli rispetto invece a ponte valle dove si sono verificati incidenti nelle ultime settimane noi grazie alla sensibilità del proprietario dell'area a ridosso dello svincolo andremo a realizzare la progettazione di una rotatoria gli atti di cessione delle aree sono già stati fatti e la realizzazione della rotatoria comporta però un percorso un pochino più lungo dal punto di vista amministrativo contabile e nel frattempo per rallentare la velocità abbiamo pensato di realizzare una strettoia per chi viene da Santa Maria dell'Arzilla e delimitare la curva con dei New Jersey perché a volte ci sono macchine parcheggiate in curva non permettono la visibilità e anche quello non contribuisce alla sicurezza stiamo aspettando le autorizzazioni della provincia perché lì siccome a Santa Maria dell'Arzilla del resto si tratta di strada provinciale e quindi dobbiamo ragionare in sintonia con loro per quello che riguarda l'affidamento dei lavori e le somme a disposizione sono già nei nostri capitoli di spesa e da pochi giorni dallo scorso primo gennaio Aspes S.p.a. si è presa a carico dell'organizzazione dei servizi di animali d'affezione come i canili o il gattile sanitario struttura quest'ultima che per mese aveva avanzato questa richiesta ed è una sorta di battaglia vinta per le volontari che da 22 anni si sono occupate delle gattile. Primi giorni del 2023, primi giorni di un mese di gennaio che contrassegna un cambio di passo nella gestione dei servizi di animali d'affezione nelle comune di pesero parliamo del canile così come del gattile sanitario di santa veneranda dove ci troviamo oggi e dove siamo tornati a distanza di alcuni mesi in cui si sono reclamate più volte le esigenze di un servizio più strutturato nella gestione di queste strutture. Ora le volontari dell'associazione animali sono state accontentate nel senso che arriva l'accordo per la gestione di queste strutture da parte di Aspes che dunque andrà a subentrare e a collaborare con le volontari e questo per dare un futuro più stabile, più garantito per questo tipo di servizi davvero molto complessi. Parliamo di un gattile che ad esempio al giorno attuale ospita più di 90 felini. Dal primo di gennaio la gestione delle strutture gattile due canili è di competenza di Aspes non più del comune e praticamente da noi come associazione animalia traghetteremo la gestione del gattile da qui a quando l'Aspes non farà un bando per l'assegnazione a una nuova gestione in modo di poter dare un futuro ai nostri gatti, cioè della serie che la gestione del gattile è una gestione non semplice perché è un gattile sanitario per cui qui arrivano gatti ammalati, investiti, sono da curare, sono da tenere sotto controllo. Quando inizia la stagione delle nascite, fra parentesi, fra poco perché siamo già a gennaio, a marzo, ricominceranno i cuccioli per cui cuccioli da allattare, da svezzare, da fare adottare. Ringraziamo Aspes che ci ha dato questa possibilità di continuare per questi mesi per poter mettere giù un progetto insieme. Noi per il momento rimarremo finché Aspes non farà un bando, un bando dove qualcuno prenderà in mano, non dico la gestione ma la vita quotidiana del gattile. Noi come associazione ci saremo in tutto questo tempo per aiutare, per consigliare, tutto quanto ma speriamo di esserci anche dopo come supporto, come aiuto perché il gattile è una struttura molto impegnativa, è una struttura dove si accolgono animali malati, cuccioli bisognosi, quindi ci vuole il consiglio del veterinario, le visite del veterinario che viene ogni settimana, il cambio delle terapie, i farmaci appropriati, il controllo di tutti gli animali che non stanno bene e che quindi vanno valutati un attimo, valutare se chiamare il veterinario oppure non chiamarlo. Quindi noi in 22 anni ne abbiamo fatti di errori tanti sulla pelle dei gatti, si può dire, perché non conoscevamo, non sapevamo fino in fondo. Adesso ci sentiamo abbastanza sicuri per poter supportare chi veramente sarà l'asse portante del gattile. Ed ora torniamo ad occuparci del biolaboratorio sperimentale che dovrà sorgere a Pesaro in zona Torraccia. Dopo il sit-in di protesta delle scorse settimane che vi abbiamo documentato per quanto riguarda i residenti contrari alla sua realizzazione, il comitato tornerà a far sentire la propria voce domani sera nel corso di un incontro organizzato alle 20.30 all'Hotel Alexander Museum Palace di Pesaro con l'obiettivo di contrastare la costruzione del laboratorio di via sicurezza di livello 3 che l'Istituto Zopro Filattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche ha punto in programma di realizzare in un'area verde tra via Furiassi e via Grande Torino. Per l'occasione si potrà partecipare ad una raccolta firme per proseguire la battaglia passando per vie legali con spese che saranno sostenute da una campagna di raccolta fondi. Il consigliere regionale Andrea Biancani ha denunciato attraverso i propri canali social un contestabile aumento dei prezzi dei treni a partire da questi primi giorni delle 2023. Attraverso un post su Facebook Biancani fa notare come un abbonamento annuale sulla tratta ferroviaria Pesaro Ancona si è aumentato da 822 a 895 euro per un rincaro di quasi il 10% che penalizza l'utilizzo di un mezzo pubblico che andrebbe invece incentivato. Passiamo a Cagli dove dopo un lungo periodo di chiusura susseguente ad una frana ieri sera il servizio viabilità della provincia ha liberato la strada Pietralunga in località Pianello riaprendola al transito con senso unico alternato regolato da semaforo. Il passaggio dei veicoli a senso unico resterà attivato fino al termine dei lavori di messa in sicurezza della parete sovrastante la cui durata è stimata in circa 30 giorni. Pesaro città italiana dei giovani 2022 continua il suo calendario dedicandosi alla musica dal vivo con Recap e Carperiem due eventi gratuiti che venerdì 6 e sabato 7 gennaio sempre alle ore 21 porteranno sul parco artisti della città al mercato delle erbe. Si parte venerdì 6 alle ore 21 con l'esibizione di Marter, Oco Oco, Oberdan, Louvre e Sorbolange questi i cinque progetti musicali pesaresi che si alterneranno appunto per Recap il festival che nonostante tutto. E poi Sheckro, Dreamer, Frank, Idra, Problem, Simon, Dono e Bruno Bug saranno invece gli artisti i pop provenienti da tutta Italia per la decima edizione di Carperiem prevista proprio sabato 7 gennaio sempre al mercato delle erbe. E sempre sabato 7 gennaio ma al teatro sperimentale di Pesaro alle ore 21 arriva Paola Turci con Mi amerò lo stesso, un monologo teatrale con canzoni della stessa Paola Turci e Alessandra Scotti per la regia di Paolo Civati per uno spettacolo che è proposto all'interno delle cartellone playlist Pesaro. Mi amerò lo stesso è un monologo in cui Paola Turci porta sul palco i suoi desideri e le sue debolezze i ricordi e le speranze per il futuro, il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza. E invece venerdì 6 gennaio il suggestivo presepe di Talacchio si appresta a vivere la sua giornata clou con l'arrivo dei Remagi. Ci sarà un corteo che partirà alle 15 da Via Marconi e sarà accompagnato dal suono della zamponia di Duccio Marchi per poi essere accolto in chiesa dai fedeli per la benedizione. All'appuntamento saranno presenti anche il vescovo di Urbino Monsignor Giovanni Tani, il parroco di Talacchio Richard Badu e il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Dopo la funzione religiosa i partecipanti potranno assistere all'esibizione di balli inediti di Pizzica Salentina e degustare una merenda con prodotti tipici offerti dai parrocchiani. E con questi appuntamenti culturali facciamo un salto in avanti anche a domenica quando sarà lo straordinario violinista Giuliano Carmignola ad inaugurare proprio l'8 gennaio la seconda parte della 63esima stagione concertistica del primo di sette appuntamenti di rilievo internazionale che da gennaio ad aprile si terranno al Teatro Sperimentale di Pesaro. Stile italiano e giovani talenti affermati nel panorama internazionale sono il filo conduttore della seconda parte della 63esima stagione concertistica promossa dall'ente Concerti che fra gennaio e aprile propone sette appuntamenti in un cartellone confezionato dal direttore artistico Federico Mondelci che spazierà dal 600 al 900 con grandi protagonisti ad alternarsi sul palco del Teatro Sperimentale. Concerto inaugurale domenica 8 gennaio alle 18 con lo straordinario violinista Giuliano Carmignola fra i massimi interpreti del barocco italiano che sarà impegnato in un omaggio ad Antonio Vivaldi e a Juan Sebastian Bach con l'orchestra dei solisti aquilani. Si prosegue sabato 28 gennaio col 19enne a un fan prodige del violoncello Ettore Pagano in duo col piano di Monica Cattarossi. Accanto alle esperienze della musica barocca colta molto rilevante di Bach e di Vivaldi che ascolteremo appunto nel primo concerto. Avremo anche una finestra aperta nella musica francese con Debussy e Frank c'è un ottimo duo per violoncello e pianoforte e la musica romantica di Chopin e Schubert e Schumann. Ma quello che voglio dire e che mi preme dire è che abbiamo una finestra aperta sulla musica russa. La musica russa è un ricco e valido e importantissimo patrimonio culturale, artistico e soprattutto musicale. Per cui avremo l'opportunità di ascoltare Tchaikovsky in un famoso trio, il La Minore, nella opera tardiva, opera 50. Musica russa che riapre il Sipario il 4 marzo con Ivan Bessonov che apre a Pesolo il suo tour europeo e il 19 marzo con il Metamorphosi Ensemble e le musiche di Stravinsky poi approfondite anche il primo aprile dal ritorno sul palco della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Diego Ceretta con la presenza del talentuoso chitarrista pesarese Eugenio della Chiara. Chiuderà il programma il talento del pianoforte Filippo Gorini che si esibirà il 16 aprile e l'Arstrio di Roma che proporrà un imperdibile omaggio a Rachmaninov e Tchaikovsky nel concerto conclusivo del 30 aprile. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordo la nostra prima serata in cui potrete rivedere le curiose immagini dei temerari, dei circa 60 temerari che hanno affrontato il tradizionale tuffo di Capodanno alla Rotonda Bruscoli sul lungomare di Pesolo. Un appuntamento che vi abbiamo anticipato nel nostro telegiornale di lunedì e che potrete rivedere in maniera più approfondita con tutte le interviste nello speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini questa sera alle 21.20. Sarà invece il nostro Antonio Astuti a tenervi compagnia domattina alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra segna stampa dei quotidiani locali con le notizie della provincia di Pesolo Urbino che vi tiene come sempre compagnia in diretta dal lunedì al sabato sempre alle 7.20. E invece domani ci sarà la seconda e ultima puntata di Aspettando la Befana con Roberta, un format dedicato in particolar modo ai bambini che già ha avuto successo nelle scorse settimane con Aspettando il Natale. Vi abbiamo riproposto anche questa versione della nostra Roberta Esperide con Aspettando la Befana domani alle 19.00, la seconda puntata e poi anche le repliche che potete vedere in grafica venerdì alle 17.00 e sabato e domenica alle 12.00 e alle 18.45. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata e di nuovo un felice 2023 a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rossini TV. Grazie a tutti.